Dottor Antenucci contro Boris Radunovic che è stato il grande protagonista della partita del Cagliari ha fischiato Mariani, parte Antenucci! E' il pareggio del Bari al 96esimo minuto come in campionato anche stavolta all'ultimo respiro Antenucci 1-1 Bisogna dire che Daniele è meritato, strameritato perché il Bari ha avuto tantissime occasioni il Cagliari non è riuscito a targinarlo, ha giocato una gran partita alla fine è riuscita a pareggiare soltanto sul calcio di rigore e quindi torna a Bari con una consapevolezza differente che gli basterà anche non perdere Adesso c'è anche un po' di nervosismo perché...